Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi un caso tristemente noto e ancora attuale. Non è chiuso, ma ci sono degli indagati. Vi parlerò del triste caso di Saman Abbas. Siamo a Novellara, un piccolo comune di campagna poco distante da Reggio Emilia. Qui, Shabbar Abbas, il padre di Saman, si trasferisce dal Pakistan per lavorare come agricoltore ormai 15 anni fa. Nel 2016 prende la decisione di portare in Italia anche la sua famiglia, formata dalla moglie, Nazia, e due figli. Per Saman, che ha 13 anni, trasferirsi in Italia e poter studiare in una scuola italiana è un vero sogno. Quando inizia il suo percorso scolastico nel nostro paese, la ragazzina viene inserita in terza media. E passa all'esame finale dimostrando di aver acquisito conoscenze adeguate e una buona padronanza della lingua italiana. Edi Pavarini, ex vicepreside della scuola media Lelio Orsi, che accolse Saman il primo giorno dell'anno scolastico, ha commentato. Un'impresa mica semplice. Sono tanti i bimbi stranieri che non ce la fanno, arrivano qui senza alcuna conoscenza dell'italiano. La donna racconta orgogliosa del progetto di accoglienza per scolari stranieri, che serve a superare problemi pratici anche di una certa importanza, secondo l'insegnante. Infatti, tanti genitori faticano a capire che le figlie hanno il diritto di studiare musica, fare ginnastica, andare in gita e poter sedere accanto al compagno di banco maschio. Saman è una ragazzina sveglia, impara l'italiano in pochissimo tempo, apprende in fretta e vorrebbe continuare a studiare. Ma suo padre non vuole iscriverla alla scuola superiore. Nonostante le continue insistenze della ragazzina, desiderosa di imparare sempre di più, non le viene permesso di continuare il percorso accademico. Lo conferma anche il datore di lavoro di Shabbar, Ivan, con il quale Saman si è confidata in un momento di tristezza. La ragazza ha spiegato ad Ivan che lei vorrebbe frequentare la scuola superiore, sa di avere le capacità necessarie per andare al liceo. Purtroppo a Novellara il liceo non c'è. Saman dovrebbe andare in una città vicina tutti i giorni, spostandosi con i mezzi pubblici. E per suo padre questo è già un ottimo motivo per tenerla a casa. La ragazza sa che suo padre è molto apprensivo, ma d'altronde tutti i ragazzi della sua età vanno al liceo e si muovono con i mezzi per raggiungere le varie scuole. Quindi, mentre i suoi coetanei vanno a scuola, Saman passa le giornate chiuse in casa, accanto ai campi di angurie e di meloni. La giovane sta sempre con sua madre e raramente le due vengono viste fuori. Non vanno neanche a fare la spesa, ci pensano gli uomini a fare tutto. Passano quattro anni, ma la situazione per Saman non migliora. La vita che sta vivendo non è per niente la vita che immaginava quando era arrivata in Italia. Anzi, a dirla tutta, le cose per lei si stanno mettendo parecchio male. Alla fine di ottobre del 2020, quando è quasi maggiorenne, Saman denuncia i genitori e prende contatto con gli assistenti sociali, rifiutando il progetto di matrimonio combinato che i due avevano per lei. Il piano dei genitori è di portarla in Pakistan e farle sposare un suo cugino di terzo grado. Saman però è ancora minorenne, quindi scatta il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e la ragazza viene portata in una comunità che possa garantirle sicurezza e protezione. Per Roberta, l'assistente sociale che da subito ha seguito Saman, che tra le altre cose l'estate precedente aveva già provato ad allontanarsi da casa, mostrando il disagio che provava per la situazione, questa diciottenne voleva iscriversi al liceo, era cocciuta e determinata e in grado di realizzare i suoi sogni. Per concretizzare queste aspirazioni la ragazza decide di riprendersi i documenti rimasti in possesso del padre. Carte indispensabili per girare e varcare frontiere, magari autonomamente, dopo aver preso la patente di guida. E per questo motivo su uno dei suoi account social segue due profili. Il primo, quello di un giovane pakistano e il secondo, e più importante, quello di un centro specializzato nell'aiuto ai migranti per la gestione delle pratiche automobilistiche con sede a Verona. Però quello di Saman non è un percorso facile e probabilmente la ragazza non è neanche così consapevole perché sono passati solo quattro mesi. L'11 aprile Saman si allontana senza dire nulla agli operatori della comunità e torna a casa dei genitori. Solo che ora Saman è maggiorenne. Ha compiuto gli anni il 18 dicembre e ha postato un brevissimo video su TikTok in cui si riprende solo le sneakers che ha ai piedi mentre cammina nel centro di Bologna lungo la via Ugo Bassi. Quelli che si vedono nel video sono passi allegri e sano di libertà per la giovane. Uscita per qualche ora dal centro protetto nel quale era stata trasferita pochi giorni prima dopo essersi opposta al matrimonio combinato imposto dal padre. Ma per riavere la sua carta di identità la ragazza lascia quel centro protetto e decide di fidarsi dei genitori. Gli assistenti sociali avvisano immediatamente le forze dell'ordine dal momento che a carico della famiglia ci sono dei provvedimenti per cui loro non possono avvicinare Saman. Il 5 maggio i carabinieri bussano alla porta di casa Abbas per verificare la situazione ma i genitori di Saman non ci sono. Sono partiti all'improvviso sabato 1 maggio. Saman non c'è. In casa si trovano solo il fratello minore e uno zio. Anche loro però, come dei cugini che vivono a 300 metri dall'azienda agricola, nel giro di qualche giorno partono. Il titolare dell'azienda agricola Bartoli ha cercato di rintracciare Shabbar per chiudere alcuni depositi rimasti aperti in vista di un'ondata di maltempo ma il telefono risulta irraggiungibile. Dopo diversi tentativi il datore di lavoro è riuscito a parlare con un parente il quale ha riferito che la famiglia è dovuta rientrare in patria perché una zia non stava bene. Questo è stato il campanello di allarme che ha fatto scattare le indagini anche perché il nome della ragazza non figura in alcuna lista d'imbarco agli aeroporti. Ma c'è un pericolo effettivo in famiglia? Saman ha paura di suo padre? Dalle relazioni in possesso dei carabinieri e raccolte tra la residenza nel Bolognese e gli uffici comunali di Novellara non risulta che Shabbar Abbas l'abbia mai picchiata. Uno degli investigatori del reparto operativo Reggiano guidato da Stefano Bove ha però osservato che è un fatto che l'uomo fosse indagato per costrizione o induzione al matrimonio procedimento pendente davanti al tribunale dei minori e per il quale la pena prevista può arrivare anche a 5 anni. È impressionante tra l'altro fare un confronto tra l'account Instagram di Saman con interazioni sostanzialmente inesistenti oltre al susseguirsi di video con brani musicali pakistani e il profilo Facebook del padre con circa 2000 amici e dirette. Alcune di queste dirette sono inquietanti come quella del 4 maggio fatta dal suo paese. Quella ripresa sembra una specie di festa salvo poi emergere che si tratta di una cerimonia funebre. Nella diretta si vede un gruppo di persone, solo uomini, attorno a un tavolo con un telo bordeaux con incisi dei versi del Corano. Normalmente questo telo viene utilizzato per coprire il corpo del defunto che però in questo caso non c'è. Ma se il defunto non c'è, di chi è il funerale? A distanza di qualche giorno Shabbar cancella il video proprio quando in Italia i carabinieri iniziano a cercare il corpo della ragazza. Sono scattate le indagini per omicidio. Ma non finisce qui. Sui social di Shabbar ci sono altre immagini vicino al figlio sedicenne. Un ragazzo dall'aria all'era. L'uomo però non si è mai mostrato accanto alla moglie e alla figlia. Figure del tutto invisibili nella sua vita social. Come invisibile è stata la vita di Saman nel casolare della tenuta agricola dove lavorava la grande famiglia degli Abbass. Il sindaco di Novellara Elena Carletti fa un appello alla diciottenne. Se per caso hai timore di tornare a casa, non averne. Ti aiuteremo così come abbiamo fatto mesi fa. Le ricerche della ragazza sono ormai in corso da una decina di giorni. Il provvedimento di sequestro dell'abitazione di Via Colombo è datato 14 maggio 2021. I carabinieri si sono recati a casa Bass proprio per notificare un atto a Saman. Ma, come già vi ho detto, non l'hanno trovata. La bicicletta che solitamente il padre utilizza è ancora appoggiata al muro dell'abitazione. Il comandante della stazione di Novellara Pasqualino Lufrano decide quindi di avviare le ricerche. I cani molecolari sono già stati due volte in Via Colombo. Sono stati portati nel cortile dell'abitazione e dell'azienda agricola. Nei campi, nei filari. Cercano qualunque traccia che possa portare in qualche modo a Saman. Saman Abbas vi ricordo che non ha preso vogliaerei o almeno non col suo nome e cognome. Questo per ora è l'unico punto fermo di una vicenda che tiene con il fiato sospeso la comunità. Non è rimasto nessuna Novellara, ma ciò che è rimasto sono le riprese della telecamera di sorveglianza dell'azienda. E in un filmato compaiono tre persone che si avviano verso un campo con delle pale e degli attrezzi. L'ennesimo inquietante dettaglio che emerge sulla vicenda di Saman Abbas. Le immagini riprendono tre persone con due pale, un secchio, un sacchetto azzurro e un piede di porco dirette verso i campi sul retro della casa di Novellara la sera del 29 aprile 2021 alle 19.00 per rientrare dopo circa due ore e mezza verso le 21.50. I fotogrammi sono agli atti dell'inchiesta. La procura che coordina le indagini condotte dai carabinieri ha subito predisposto un pieno di ricerca dei tre fuggitivi e ha cercato anche il corpo della giovane nelle immediate vicinanze della sua abitazione. Svuotando anche i canali di irrigazione. Sono state impegnate le squadre cinofile e i vigili del fuoco, ma non è stato rinvenuto nulla. La procuratrice capo di Reggio Emilia, Isabella Chiesi, afferma Le indagini proseguono per accertamenti e individuazione certa degli indagabili e della persona offesa, anche all'estero. A tal fine sono già stati attivati i canali della cooperazione internazionale. Il comune di Novellara organizza per la sera di venerdì 28 maggio un sit-in in Piazza Unità d'Italia in segno di solidarietà e speranza per Saman. A tutti i partecipanti, l'amministrazione chiede di portare una torcia per illuminare il buio. Manuela, moglie di Ivan, il titolare dell'azienda agricola, ha detto ai giornalisti Al papà di Saman, mio marito Ivan, lo aveva ripetuto spesso. Più serio che scherzoso. Guarda che se non mandi tua figlia a scuola, prima o poi vengono i vigili a prenderti. Ma lui, Shabbar, rispondeva evasivo. Una volta sostenendo che la ragazza già seguiva lezioni online di un istituto pakistano. Un'altra dicendo che le scuole qui vicino non fossero adatte a lei, ma che stavano comunque pensando a dove iscriverla. Ora, d'improvviso, scopriamo che erano tutte balle. E poi no, non sapevamo nulla del matrimonio che a Saman era stato imposto con un cugino che vive in Pakistan. La ragione per cui lei si era allontanata da casa rivolgendosi ai servizi sociali. Aggiunge poi, sono allucinata. Non credevo che in quella famiglia ci fosse una chiusura così, covata in casa, impossibile da intercettare. Mentre continuano le ricerche nell'area agricola attorno all'abitazione, madre, padre e zio della giovane sono finiti nel registro degli indagati della procura di Reggio Emilia. Risultando però ancora reperibili. Una rogatoria internazionale per intercettarli è già stata avviata. Ma più passano le ore e più si fa strada l'ipotesi che la storia di Saman possa concludersi con lo stesso triste epilogo che purtroppo ha accompagnato altre vicende simili in passato. Più passa il tempo, più la vicenda si fa inquietante. Infatti salgono a cinque gli indagati nel caso della scomparsa di Saman. Oltre ai genitori e a uno zio sono iscritti nel registro degli indagati anche due cugini della ragazza. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri. È stato infatti ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio. I due cugini avrebbero avuto un ruolo nella sparizione di Saman in quanto sono stati riconosciuti dalle immagini dei video sorveglianza dell'azienda. Sono stati ripresi la sera precedente, l'ultimo avvistamento della ragazza, mentre uscivano da un capannone con attrezzi da lavoro utilizzati verosimilmente per preparare una buca nella zona dell'azienda agricola dove lavoravano i familiari della ragazza. Uno dei cugini di Saman viene arrestato in Francia il 21 maggio. L'uomo, a Caramigaz, si trovava a bordo di un flixbus partito da Parigi e diretto a Barcellona, dove probabilmente cercava di raggiungere alcuni parenti. Senza documenti è stato trattenuto in un centro di identificazione e, in base agli elementi raccolti a suo carico, dalle autorità è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in cacere, perché è ritenuto responsabile di concorso in omicidio e occultamento del cadavere della ragazza. L'autorità giudiziaria ha anche emesso un mandato d'arresto europeo che è stato inviato alla polizia francese competente. A Nîmes le forze dell'ordine lo hanno arrestato e le operazioni di estradizione hanno inizio lunedì 31 maggio 2021. Nel frattempo ha parlato anche il padre della ragazza, Shabbar Abbas. Intervistato dal resto del Carlino, ha detto «Il 10 giugno sono a Malpensa, torno e spiego tutto ai carabinieri, mia figlia è viva, l'ho sentita l'altro ieri». Secondo quanto afferma il padre, la ragazza sarebbe in Belgio, infatti dice «l'ho sentita su Instagram, ma non so se torna in Italia». Per gli investigatori sono parole al vento, le evidenze giudiziarie convergono sull'omicidio, Inoltre Shabbar sa di essere indagato. Se volesse potrebbe affrettarsi a portare la prova del fatto che Saman è viva. L'uomo del resto è stato parecchio evasivo anche sui dettagli della presunta partenza per il Belgio della figlia, dove già si era rifugiata prima di trovare accoglienza nella comunità protetta del bolognese. Nega che la figlia abbia un cellulare con sé, ma dice di averla sentita attraverso Instagram. Poi non è stato in grado di indicare chi in Belgio ospiti effettivamente sua figlia. Non è un parente, forse un non meglio precisato amico che abita a Bruxelles. Shabbar, riferendosi alla figlia, afferma inoltre che anche lei ha visto le notizie che la riguardano. «Le ho detto di tornare in Italia per spiegare tutto». Nonostante questo non è arrivato un segnale, un messaggio o un post sui social della ragazza che dia credito a questa tesi. Shabbar chiude il profilo Facebook per qualche giorno e quando lo riattiva si ritrova una pioggia di insulti. Viene apostrofato in vari modi. Assassino. Brutta bestia Barbara. Animale. Riceve moltissimi messaggi del tipo «Vergognati bestia, spero che l'autorità italiana riesca a prenderti e a metterti in prigione». Vengono scritti svariati post contro il padre della diciottenne e il resto dei familiari coinvolti, tra cui uno in cui viene detto «Se sono stati loro, li seppellirei, vivi accanto a lei». E ancora c'è chi etichetta i cinque come assassini, chi chiede l'evirazione del padre e del parentame in pubblica piazza, chi parla di usanze e modi di pensare da cavernicoli, quelli che aveva denunciato la ragazza e ai quali si era ribellata, e chi sostiene che la fuga è ammissione di colpevolezza. Nella mattinata di lunedì 31 maggio, il comandante della compagnia di Guastella, Luigi Regni, coordina una dozzina di carabinieri per cercare il corpo della ragazza. Vengono passate a setaccio canali e fossi che circondano l'azienda agricola, in cui era impiegato come operaio il padre Shabar Abbas e in cui viveva tutta la famiglia. Successivamente le operazioni sono estese a una tenuta agricola confinante. Nei giorni seguenti proseguirà la rassegna dei terreni circostanti senza trascurare assolutamente nulla. Nessun controllo per il momento viene fatto nelle porcilaie o negli allevamenti di bestiame della zona. E ce ne sono tanti nel raggio di 7-8 chilometri. I colleghi non sanno molto di Shabar. Era un uomo taciturno sul lavoro, specialmente se si trattava di moglie e figlia. Non le nominava. Mentre il figlio si vedeva spesso in giro, non abbiamo mai incontrato né moglie né figlia. Spiegano i compagni di lavoro che aggiungono che negli ultimi tempi mancava più spesso. Affermano che qualcosa doveva essergli successo. Beveva un po' troppo forse. Le tensioni a casa lo preoccupavano. Si vedeva che era inquieto. La voglia di parlare è poca nel casolare che ospita da un lato lo spaccio di prodotti agricoli e dall'altro l'appartamento in cui viveva la famiglia Bass. Il primo giugno 2021 emerge un nuovo video negli atti della procura di Reggio Emilia. Il filmato mostrerebbe la ragazza che esce di casa con alcuni degli indagati, il padre, la madre, lo zio e i due cugini, per non fare proprio più ritorno. È l'ultima volta in cui è stata vista viva. Il viottolo sterrato lungo il quale Saman Abbas sarebbe stata accompagnata verso la morte dai genitori Shabar e Nazi, corre parallelo alla strada provinciale che va verso Guastalla e il Po. Sembra che le abbiano detto vai dallo zio. L'uomo Danish aspettava la ragazza al termine della stradina e proprio nelle vicinanze l'avrebbe uccisa. Il cadavere della giovane sarebbe stato nascosto da qualche parte, forse sotterrato, gettato in una porcilaia o in un pozzo. Lo zio Danish, difeso dall'avvocato Lalla Gerpelli, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni, sarebbe l'esecutore materiale del delitto commesso in concorso materiale e morale con Nazi e Shabar Abbas. In base a questa ricostruzione, gli investigatori formulano una ipotesi terribile riguardo al primo filmato visionato, quello che la sera del 29 aprile vedeva tre persone dirigersi verso la campagna con delle pale. Avrebbero scavato la buca per seppellire Saman in vista del delitto premeditato. Intanto, chiaramente, le ricerche dei carabinieri proseguono senza sosta per trovare la diciottenne. Con droni e cani molecolari si cerca in fossati, canali, pozzi e serre. Indicazioni più precise su dove cercare la ragazza scomparsa potrebbero arrivare dal ventottenne a Karam Hijaz, il cugino di Saman, fermato qualche giorno prima in Francia. Hijaz ha negato ogni implicazione nei fatti di fronte ai giudici francesi, accettando di essere consegnato alla giustizia italiana per poter chiarire di essere innocente. Ai carabinieri, però, dovrà spiegare cosa ci facesse con le pale in mano nel video che lo riprende con il cugino e lo zio Danish la sera del 29 aprile. Il 4 giugno 2021 emerge che Saman aveva un fidanzato segreto. Si tratta di un connazionale ventunenne conosciuto sui social e che vive in Italia. Il giovane è già stato ascoltato dai carabinieri e ha fornito elementi importanti per l'inchiesta sull'uccisione di Saman. Sembra che il ragazzo abbia detto di aver ricevuto minacce dal padre della ragazza, anche se non è chiaro se queste minacce gli sono state rivolte direttamente o sono arrivate dai racconti della situazione fatti dalla stessa Saman terrorizzata. Quel che è sicuro è che le parole del giovane rafforzano ulteriormente la pista del delitto maturato in famiglia, come sospetta la procura che ha indagato ben cinque persone. Quanto al fratello sedicenne della ragazza, che si trova in un centro protetto, sembra sia stato fermato ai primi di maggio nei pressi della frontiera con la Francia, mentre anche lui cercava di scappare. Dal suo interrogatorio in incidente probatorio, gli investigatori si aspettano la conferma di quel che ha detto appena rintracciato, parlando di omicidio. Che Saman avesse un fidanzato conosciuto mentre stava nel centro protetto nel Bolognese per essersi opposta al matrimonio combinato, gli Abbas lo sapevano. Lo ha raccontato un connazionale di Saman intervistato al TG2. La ragazza si era confidata con il coetaneo in una chat online raccontandogli delle minacce di morte ricevute dal padre per essersi opposta al matrimonio. Il fidanzato di Saman racconta ai carabinieri che già due anni prima Saman si era opposta a un primo matrimonio combinato dal padre con un parente in Pakistan. Voleva denunciarlo ma poi non lo aveva fatto, forse troppo giovane per affrontare quello che sarebbe potuto succedere. Ma il rifiuto al matrimonio combinato allora era stato tassativo. Il ragazzo della giovane è un suo connazionale 21enne, residente in Italia ma lontano dall'Emilia, conosciuto sui social nel 2019. Una storia d'amore portata avanti dai due ragazzi, soprattutto restando in contatto costante sui social. Ma a partire dall'estate precedente il sentimento sempre più importante li aveva spinti a vedersi più volte. Anche quando Saman era stata portata al centro protetto nel Bolognese, dopo essersi rivolta ai servizi sociali del comune di Novellara, raccontando tutto quello che non era più disposta a sopportare in casa sua. Lei mi diceva che aveva paura, racconta il giovane agli investigatori del reparto operativo reggiano diretto da Stefano Bove. Saman temeva lo zio e i cugini perché sapeva che la stavano cercando ovunque. Il giovane amico pakistano riporta agli investigatori. Mi aveva raccontato del suo fidanzamento osteggiato in famiglia, del suo sogno, quello di fare l'avarista. Aveva anche chiesto agli assistenti sociali se poteva frequentare dei corsi. Voleva bene solo al fratello, l'unico della famiglia, che le mancasse. Intanto le ricerche del corpo proseguono. I militari a Novellara stanno organizzando nuove indagini battendo metro per metro tutti i terreni della zona. Continuano le attività di ricerca sul posto attraverso il sondaggio del terreno con carotaggi in preparazione del successivo intervento delle unità cinofile. Il comando dei carabinieri afferma verrà impiegata la tecnologia dell'elettromagnetometro per una più approfondita scansione del sottosuolo. Questo strumento si spera possa superare le difficoltà incontrate con l'impiego degli altri strumenti a causa della composizione chimica del terreno. Il fratello di Saman è trattenuto in una casa famiglia in quanto bisognoso di protezione e minorenne, mentre lo zio Danish viene invitato a regolarizzare la sua posizione in questura. Questo però non avviene, l'uomo si dilegua. A questo punto gli investigatori informati della presenza del minore vanno a prendere il ragazzo e lo accompagnano in una struttura protetta in Emilia. È grazie al fratello di Saman che l'indagine decolla. L'adolescente racconta che la ragazza è stata uccisa e spiega il ruolo di Danish nel delitto. Il ragazzino ha paura dello zio. Stiamo infatti parlando dell'uomo al quale in quella terribile notte madre e padre ripresi in un video hanno letteralmente consegnato la figlia mandandola incontro alla morte. L'uomo è cercato in tutta Europa. Probabilmente si trova tra Francia e Spagna e individuarlo è solo questione di tempo. Danish, 33 anni, è la persona che secondo la procura di Reggio Emilia ha materialmente ucciso la giovane. Saman, quella stessa notte poco prima di essere mandata a morire ed essere sotterrata in campagna, lo sente parlare con qualcuno di quel che le accadrà poi, una manciata di minuti più tardi. È la stessa giovane a riportare quanto ha sentito in un messaggio vocale al suo fidanzato. La ragazza si trovava nella stanza accanto a quella in cui erano i genitori e aveva origliato la conversazione. Per la madre Nazi quella sarebbe stata l'unica soluzione per punirla dato che la figlia insisteva nell'opporsi al matrimonio combinato in Pakistan e voleva vivere liberamente all'occidentale. Saman però non ha probabilmente sentito l'intera conversazione, infatti non è sicura o forse non vuole credere che sia possibile che i genitori stessero parlando di lei. La stessa giovane decide di chiederlo subito alla madre. La donna ovviamente nega le parole che Saman ha sentito sarebbero riferite a una vicenda accaduta tempo prima in patria. Ma la ragazza non crede alla madre, qualche istante più tardi si sfoga col fidanzato tramite un messaggio vocale in cui dice, l'ho sentito con le mie orecchie, ti giuro che stavano parlando di me. È quindi certo che Saman Abbas temesse per la propria vita. E il suo fidanzato lo ha ripetuto più volte ai carabinieri. La ragazza durante la conversazione aveva aggiunto, se non mi faccio sentire per più di 48 ore, avverti le forze dell'ordine. Ma la difesa di Shabbar Abbas? Secondo Simone Servillo l'avvocato difensore dei coniugi Abbas, la coppia è riparata in Pakistan. L'uomo afferma. Sino oggi sono usciti a senso unico atti accusatori che però possono essere anche interpretati a discarico, in chiave assolutoria. Primo fra tutti il fatto che il corpo di Saman non è stato trovato. Per questo, secondo Servillo, resta in piedi ciò che Shabbar Abbas ha detto nel corso dell'intervista telefonica. La ragazza è viva e si trova in Belgio da un amico. Circostanza che fa ritenere del tutto comprensibile che i genitori restino in Pakistan. Il procuratore reggente di Reggio Emilia, Isabella Chiesi, ufficializza la morte della diciottenne, Saman Abbas, pronunciando queste parole. Non c'è speranza di un esito positivo, né che le parole del padre, che dice che Saman è in Belgio, siano vere. Gli inquirenti sono alla ricerca della giovane da più di un mese e da settimane cercano un corpo. Il racconto del fratello di Saman, approfondito nel corso di vari interrogatori, è sconvolgente. Parole che fanno quasi sembrare di assistere in presa diretta all'omicidio. La mezzanotte del primo maggio è passata da poco. Esattamente a mezzanotte e nove minuti, Saman esce di casa. Prima ha avuto una furibonda lite con il padre Shabbar e la madre, Natsi. La ragazza ha preteso i documenti rimasti in loro possesso, dopo che, per essersi opposta al matrimonio combinato in Pakistan, i servizi sociali di Novellara l'hanno trasferita in un centro protetto. La carta d'identità le serve per viaggiare e progettare una vita, magari proprio con il fidanzato, con il quale, in quegli istanti, sta accettando, raccontandogli tutto. Ecco che si delinea anche il ruolo dello zio e dei cugini. Secondo il fratello di Saman, Danish, è arrivato da dietro le telecamere perché lui sapeva dove erano posizionate. Il ragazzo che stava tornando dalle serre sente l'uomo gridare ai genitori le parole, andate a casa, ora ci penso io. Il ragazzo ha poi continuato il suo racconto. Mio padre è rientrato a casa con lo zaino di Saman, quello di colore avorio che lei aveva sulle spalle quando è uscita. A questo punto lo zio ha detto a mio padre di portarlo in casa e di nasconderlo senza farlo vedere alle telecamere. Una volta rientrato Shabbar si è sentito male e ha pianto. Era impossibile opporsi alla ferocia dello zio temuto da tutti gli abbass. Se mio papà avesse detto ai carabinieri quanto avvenuto, lui ci avrebbe uccisi. Quando gli viene chiesto come ha fatto lo zio a uccidere la sorella, il sedicenne spiega. A me non l'ha detto. Non l'ha detto nemmeno quando è arrivato a casa. Se lo avesse fatto mio padre si sarebbe tolto la vita. Secondo me l'ha ammazzata strangolandola perché quando è entrato non aveva nulla in mano. Successivamente il ragazzo chiede allo zio dove fosse stata seppellita la sorella perché avrebbe voluto salutarla un'ultima volta. Ma Danish dice di non potergli rivelare dove fosse il corpo. Un uomo violento capace di terrorizzare l'intera famiglia Abbas. Soprattutto determinato a occuparsi personalmente della punizione della nipote, colpevole ai suoi occhi di essersi allontanata dai precetti dell'islam. Danish è ricercato in tutta Europa per l'omicidio di Saman. Con ogni probabilità si trova in Francia, più difficile che sia arrivato in Svizzera o in Spagna. Ma è soltanto questione di tempo, non a scampo secondo gli investigatori. Braccato, Danish non ha la possibilità di usare un cellulare ed è senza automobile. Del resto nessuno ne possiede una nella grande famiglia pakistana stabilitasi a Novellara. L'uomo non ha precedenti, di lui si sa solo che è un bravo lavoratore a detta dei diversi titolari delle aziende agricole nel Reggiano che lo hanno avuto alle loro dipendenze senza mai doversi lamentare. Le carte dell'ordinanza però restituiscono la figura di un uomo violento. Almeno secondo quello che ha raccontato il fratello di Saman ai carabinieri. La famiglia contestava alla ragazza la sua ostinazione e il suo desiderio di vivere all'occidentale e gli scontri con i genitori e soprattutto con lo zio, musulmani osservanti, erano frequenti. Sembra che Danish avesse insistito più volte sul fatto che la nipote non rispettava gli obblighi religiosi del Ramadan. A questo punto emerge un'altra inquietante verità. Saman è stata uccisa da tre uomini, lo zio e i due cugini. In precedenza la convinzione era che Saman fosse stata uccisa unicamente dallo zio Danish. Invece secondo la procura non sarebbe andata così. Lo scenario che emerge dalle carte è più articolato, complesso, ancora più sconvolgente. Nelle pagine conclusive dell'ordinanza il GIP chiarisce che la diciottenne sarebbe stata ammazzata da tre persone, lo zio Danish e due cugini, Ijaz Akaram e Numanelak. Il giudice per le indagini preliminari, Luca Ramponi, scrive. Dunque, stando a quest'ultima integrativa narrazione, i due indagati, per i quali è oggi richiesta una misura cautelare, non solo hanno cooperato nella precedente attività di scavo della fossa. Qui il riferimento è al video del 29 aprile, in cui si vedono tre persone, tra cui Akaram e Numanelak, munite di pale, ma hanno anche aiutato Danish nel bloccarla e poi ucciderla. Dalle carte si scopre che proprio la sera tardi del primo maggio il ragazzino riceve un messaggio da una donna e l'utenza è straniera. Non è detto che sia la madre nazi, ma per gli investigatori è assai probabile. La voce femminile chiede al ragazzo come sta, fa quattro nomi di persone che forse sono lì con lei, non è chiaro, e poi dà qualche suggerimento operativo. In altre parole dice al giovane cosa riferire agli inquirenti. Spiega loro questa cosa, io ho mandato il messaggio anche allo zio e non ha risposto. Spiega questa cosa che la polizia ha portato via, non devi dire niente di più, mamma stava male e il papà l'ha portata in Pakistan. Devi dire questa cosa, ok? Non devi dire nient'altro, qualsiasi persona ti chieda qualcosa, figlio mio, non devi dire niente. Anche nella tua testa deve essere così, che è andata via come era andata via prima. Il cerchio ormai si sta stringendo. A breve potrebbero esserci le prime dichiarazioni da parte di uno degli indagati per l'omicidio di Saman. Sempre che decida di parlare. Akaram Hijaz, cugino della giovanissima pakistana, è arrivato a Ventimiglia e lì è stato prelevato dai carabinieri e portato nel carcere di via Settembrini a Reggio Emilia. Le parole che eventualmente l'uomo deciderà di pronunciare saranno dunque fondamentali per ritrovare i resti della diciottenne. I carabinieri del reparto operativo diretto da Stefano Bove chiedono quindi a Akaram informazioni sul logo preciso dove è stato nascosto il cadavere della ragazza. Il 9 giugno viene diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto un audio che chiarisce come Saman fosse consapevole di quello che la sua famiglia stava progettando. Anche se alla sua richiesta di spiegazioni la madre aveva detto di trasferirsi a una ragazza scappata che si trova in Pakistan. Nell'audio originale Saman sembra quasi rassegnata alla sua sorte e dice infatti al fidanzato vedremo quello che è scritto nel destino. Vedremo se sono solo parole ma possono arrivare a farlo. Lasciamo fare al destino. Intanto l'avvocato di Akaram dice ai giornalisti si è avvaso della facoltà di non rispondere ma ha reso spontanee dichiarazioni ha detto che non c'entra nulla con la sparizione ma collaborerà con il PM per spiegare i suoi movimenti. Ad uccidere Saman a base è stato lo zio Danish. Lo ha ribadito nell'incidente probatorio il fratello della ragazza. La testimonianza del minore è stata cristallizzata confermando quanto aveva già detto agli inquirenti sull'omicidio della sorella diciottenne. Le ricerche del corpo di Saman si concentrano in particolare su una serra. La giornata è un susseguirsi di falsi allarmi e speranze. Le unità cinofile sono state in azione fin dalle 6 di mattina di venerdì 25 giugno nelle campagne di Novellara. Sette cani tutti di razze diversi ma in comune l'addestramento specifico. Un'associazione di volontari svizzeri li ha istruiti a percepire tracce ematiche e resti umani. Esperti nel frittare l'odore della decomposizione si spera possano dare una svolta alle ricerche del corpo di Saman. In tarda mattinata si inizia a scavare nella zona della serra 4B. Prima di scomparire tra i tanti video e messaggi inviati da Saman al fidanzato c'è anche una sua foto. Un selfie scattato molto da vicino per mostrare un grande livido sulla guancia. L'immagine viene mostrata per la prima volta durante la puntata di Chi l'ha visto del 23 giugno. La diciottenne nella chat con il suo ragazzo fa anche il nome di chi le avrebbe provocato quel livido con un pugno o uno schiaffo. Il cugino Irfan. Secondo la denuncia presentata dal fidanzato di Saman Irfan l'avrebbe picchiata dopo aver saputo che la cugina aveva ancora rapporti con lui. Nella deposizione del giovane è riportata anche una non troppo velata minaccia che il cugino ha fatto a Saman dicendo che se continuava a vederlo poteva accaderle anche di peggio. Irfan non è uno dei cinque parenti della ragazza indagati dalla procura per omicidio, ossia i genitori, lo zio e i due cugini. Non fa parte del gruppo di uomini armati di pala che si vedono nel filmato in bianco e nero acquisito dalla procura e ha sempre smentito ogni coinvolgimento nella vicenda. Insomma sembrava estraneo al cerchio di parenti che secondo gli inquirenti sono responsabili dell'omicidio della ragazza o che ne sono in modi diversi complici e il numero degli indagati è destinato ad aumentare. Irfan ha detto all'inviato di chi l'ha visto di aver solo aiutato i genitori di Saman a procurarsi un biglietto per il Pakistan in un'agenzia. Ho fatto un favore al padre che mi chiedeva di acquistare un biglietto per la moglie. Dopo la partenza ha affermato di non averli più sentiti e di avere vergogna a parlare con loro per la cosa grave che hanno commesso ma dopo la denuncia fatta dal fidanzato di Saman nei cui atti figura la foto con le chimosi provocate dal cugino Irfan l'inviato di chi l'ha visto torna da Irfan che ancora una volta ha ribadito di essere estraneo alla vicenda. Non sono stato io, non so perché ha fatto il mio nome, non so nulla, lasciatemi in pace. Però Saman ha legato nel messaggio al fidanzato oltre alla foto del livido anche il numero telefonico del cugino e dai riscontri fatti dall'inviato della trasmissione il numero corrisponde a quello dell'intervistato. Ma non è tutto. Sempre nella denuncia presentata dal ragazzo di Saman si legge che questo cugino e altri parenti connazionali si sono presentati a casa della famiglia Bass il 26 aprile e sono rimasti lì fino al 4 maggio. Saman è stata uccisa secondo gli inquirenti il 30 aprile. Quindi questi parenti sarebbero stati presenti proprio nei giorni in cui si decideva e poi si eseguiva la condanna della ragazza. Una domanda sorge spontanea. Perché erano lì? Forse per controllare che lei non uscisse di casa? E dopo il delitto? Irfan continua a negare perfino di essere stato a casa Bass in quei giorni. Quel che è certo è che il cerchio di parenti soprattutto uomini che ha circondato Saman per piegarla a fare qualcosa che non voleva e poi a ucciderla sembra allargarsi ogni giorno. Oltre che nell'area dell'azienda agricola Bartoli ora il corpo di Saman viene cercato anche in un boschetto al di fuori della proprietà di via Colombo a Novellara. La procura nel mentre ha chiesto un incidente probatorio per sentire il fidanzato di Saman. Si tratta del secondo dopo quello fatto con il fratello minore della ragazza. La PM Laura Galli vuole raccogliere la testimonianza del ragazzo per cristallizzarla come prova ai fini del processo. Il giovane era detestato dalla famiglia di Saman dalla quale pare abbia ricevuto minacce e pressioni affinché interrompesse la relazione. L'obiettivo della procura è acquisire agli atti del processo la sua testimonianza relativa alle ultime ore di vita di Saman quando con messaggi precisi e circostanziati la ragazza gli ha raccontato il clima che si stava respirando in casa sua. All'inizio del mese di luglio il ministero della giustizia dispone l'inserimento dei coniugi abbass nella banca dati Interpol il che equivale ad una richiesta di arresto provvisorio ovunque si trovino. Una volta individuati o arrestati dalle autorità di polizia locali il ministero della giustizia può inoltrare la domanda di estradizione. A chi l'ha visto Sakib il fidanzato di Saman mostra quello che doveva essere l'abito da sposa della ragazza. Sakib e Saman avevano infatti già acquistato insieme negli otto giorni trascorsi a Roma oltre al vestito per lui un anello altri gioielli vestiti e scarpe per la cerimonia. Nel frattempo il tribunale del riesame di Bologna ha deciso di rigettare le richieste degli avvocati difensori di Akaram Ijaz. Il cugino di Saman resta in carcere. Il 12 luglio si arriva ad una brutta conclusione. Saman Abbas non c'è. I resti della giovane scomparsa ormai da due mesi e mezzo non sono nelle serre di Novellara. Le ricerche che proseguivano ininterrotte da 67 giorni nella coltivazione di campi di angurie della famiglia Bartoli dove la famiglia Abbas lavorava e viveva vengono sospese. Il 25 luglio emerge che il cellulare di Saman Abbas è in mano agli inquirenti. È stato sequestrato lo scorso 7 giugno nel Frusinate presso il domicilio del fidanzato della ragazza Sakib. La ragazza ha trascorso qualche giorno col fidanzato nel Lazio poi è tornata a Novellara per prendere i documenti lasciando a Sakib il telefono per paura che in casa le venisse sequestrato. Evidentemente a Novellara Saman utilizza un altro dispositivo dal quale ha inviato proprio al fidanzato il messaggio del 30 aprile esprimento preoccupazione per gli inquirenti poco dopo è stata assassinata. Al giallo della scomparsa di Saman si aggiunge un altro enigma che gli inquirenti al lavoro da mesi dovranno sciogliere. Chi era la coppia marito e moglie che nei giorni prima della sparizione della 18enne pakistana era ospite a casa della famiglia bassa Novellara? Il compito dei due era sorvegliare la ragazza per evitare che fuggisse di nuovo dal futuro che la famiglia aveva programmato per lei? Durante l'udienza Sakib ha dato nuove informazioni agli inquirenti confermando i sospetti. Il cugino della fidanzata ancora impegnato nell'azienda agricola quello che l'avrebbe schiaffeggiata lasciandole un livido sul volto il 26 aprile ha portato nel casolare in cui vivevano gli abbass due persone una coppia marito e moglie incaricate di sorvegliare la giovane per evitare nuove fughe. Saman ha quindi passato giornate con gli occhi puntati addosso rimanendo in contatto con il fidanzato attraverso un altro cellulare forse quello della madre. Chi fossero i due coniugi che ruolo abbiano avuto nelle ultime ore di Saman è ancora da definire. Alla fine del mese di agosto il fratello minore di Saman riporta agli inquirenti quanto sentito il pomeriggio del 30 aprile in casa. Durante una riunione a cui hanno partecipato lo zio Danish e altri parenti si è parlato delle modalità con cui far sparire il cadavere di Saman smembrandolo. Il giovane riporta le parole dello zio Danish ha detto io faccio piccoli pezzi se volete porto anch'io a Guastalla buttiamo là perché così non va bene. Lo zio di Saman Abbas Danish viene arrestato mercoledì 22 settembre verso le 10 alla periferia di Parigi. L'uomo è stato bloccato dalla polizia francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo grazie a qualche indizio arrivato dalla sua presenza sui social dove continuava ad avere profili fake. Nel mandato di arresto europeo sono riportati device IP che hanno consentito agli investigatori di individuare l'indirizzo presso il quale si nascondeva l'uomo. Non aveva documenti con sé quando è stato controllato ma a tradirlo è stato un particolare sul volto, un neo. Per l'arresto dello zio di Saman la polizia francese che opera d'intesa con i carabinieri di Reggio Emilia ha fatto irruzione in un appartamento della periferia di Parigi dove si trovava con alcuni connazionali estranei all'accaduto. La procuratrice di Reggio Emilia Isabella Chiesi considera l'arresto di Danish fondamentale perché ci consentirà di avere una versione dei fatti, sempre che la voglia rendere, delle indicazioni anche su dove si trova il corpo di Saman. Inoltre poiché il cugino Akaram Hijaz è già in carcere la procuratrice considera la possibilità di mettere a confronto le versioni dei fatti dei due indagati. Il 23 settembre 2021 la ministra della giustizia Marta Cartabia firma e trasmette al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas indagati per l'omicidio della figlia ricercati dall'Interpol a livello internazionale. Intanto a Parigi la corte chiamata a decidere sull'estradizione di Danish dispone un nuovo rinvio. Slitta tutto al 5 gennaio 2022 e nel frattempo l'Italia è chiamata a fornire ulteriore complemento di informazioni sulle modalità di applicazione di un'eventuale condanna all'ergastolo dello zio di Saman. Una richiesta avanzata dai legali di Danish che la corte ha accolto. È la quarta udienza in cui Parigi vaglia la situazione ed è il quinto rinvio. Prima di questo ci sono stati gli appuntamenti del 29 settembre e del 20 e 27 ottobre. Il 5 gennaio Danish, zio di Saman Abbas, rinuncia ad opporsi all'estradizione dalla Francia in Italia. Lo comunica lui stesso ai giudici della corte d'appello, colti di sorpresa dal momento che per tre mesi l'uomo si è opposto all'estradizione. Appena avuta la parola Danish ha detto non mi oppongo, non serve a niente che io resti qui, non posso parlare con mia moglie, non ho neppure soldi per telefonarle, preferisco tornare in Italia e spiegarmi. Il 20 gennaio Danish è finalmente in Italia, viene immediatamente portato nel carcere di Reggio Emilia. Ora si apre un altro capitolo, quello decisivo, capire se e in quale modo Danish sarà utile alle indagini e se collaborerà. Nell'interrogatorio davanti al jeep Luca Ramponi, concluso dopo meno di due ore e mezza, Danish sostiene di essere stato incastrato per una questione di soldi e terreni. Fuori dal carcere, proprio la sua legale, ha detto che Danish si dichiara all'oscuro di cosa possa essere accaduto a Saman, proprio in considerazione degli ottimi affettuosi rapporti che aveva con la nipote, ha ritenuto plausibile che si fosse allontanata volontariamente. E inoltre, pur senza voler accusare nessuno, ventila la possibilità che il fratello di Saman abbia fatto le dichiarazioni a suo carico spaventato e condizionato dal padre Shabbar, anche in considerazione di un potenziale vantaggio di natura economica che deriverebbe dalla sua condanna. In Pakistan, infatti, i due fratelli sono comproprietari di un terreno e qualora lui fosse condannato, la proprietà spetterebbe di diritto a Shabbar. Per questo l'indagato ha chiesto aiuto al PM perché indaghi e chiarisca la situazione. Ha risposto a tutte le domande con coerenza e tranquillità e la sua voce non è mai risultata atturbata. Anche alla domanda relativa al video che lo ritrae con Pala e Pede di Porco insieme a due cugini, l'uomo ha detto che erano andati a fare dei lavori nell'orto. Entro pochi giorni emergono nuovi dettagli su Danish che, durante l'interrogatorio di garanzia, si è dipinto al jeep di Reggio come uno zio affettuoso, in completa antitesi con il ritratto di un assassino. Nel corso dell'udienza, durata più di due ore, l'uomo ha affermato che c'era già stata una cerimonia di fidanzamento col cugino in Pakistan, con scambio di gioielli e acquisto di mobili, che la nipote però non voleva trasferirsi in patria e Danish l'aveva rassicurata, dicendole che il marito si sarebbe trasferito nel reggiano con lei e che la famiglia avrebbe controllato che si comportasse bene. Successivamente Saman si è innamorata, per davvero, ma di un uomo scelto da lei e si è ribellata pubblicamente al fidanzamento voluto dai genitori. Il 14 febbraio 2022 la polizione di Barcellona arresta, su mandato di cattura europeo, è messo dal GIP di Reggio Emilia per sequestro, omicidio volontario e occultamento di cadavere della cugina Saman Abbas. Viene catturato in un appartamento in periferia già sotto osservazione da diverso tempo. Per il momento l'uomo che dopo l'arresto ha rifiutato la consegna all'Italia rimane quindi in carcere preventivo in Spagna. I reati contestati all'accusato potrebbero comportare una condanna all'ergastolo, una pena non prevista nell'ordinamento spagnolo. L'ok del giudice iberico all'estradizione è soggetto alla condizione che l'autorità giudiziaria italiana accetti una revisione della condanna o l'eventuale applicazione di sconti di pena. Ma i genitori latitanti della giovane? L'ambasciata pakistana in Italia ha fatto sapere che c'è il nulla osta per la loro estradizione dal paese asiatico. Un sì alla richiesta formale avanzata in estate dal ministro della giustizia Marta Cartabia. Affermazioni che però non spostano nulla dal punto di vista investigativo. Gli inquirenti reggiani sono pronti da tempo a partire subito per il Pakistan qualora invitati dalla polizia locale. Non hanno dubbi infatti che Shabbar e Nazi si trovino in patria. Malco che c'è ancora un'attesa vana, ancora un nulla di fatto. Non si è ancora arrivati a una vera e propria svolta per le indagini. Anche l'ultimo indagato rintracciato noma nel hack, noma nel hack, estradato da Barcellona, non ha fornito per il momento indicazioni utili agli inquirenti. La mattina del 25 marzo si tira l'interrogatorio di garanzia necessario per avvallare anche in Italia la misura cautelare del carcere e l'uomo si avvale della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore Laura Galli. Noma nel hack? Si è videocollegato dal carcere con l'aula presieduta dal GIP Luca Ramponi. Rilascia però una dichiarazione spontanea. Secondo il suo avvocato, ha negato ogni addebito. Il 22 aprile 2022 c'è uno sviluppo nell'inchiesta sulla scomparsa di Saman. Dopo la notizia della notifica alla fine delle indagini preliminari, avvenuta il 29 marzo, il sostituto procuratore Laura Galli deposita richiesta di rinvia giudizio per 5 persone. Nessuna sorpresa dunque l'accusa chiede che i genitori, i due cugini e lo zio di Saman vengano processati per il suo omicidio per la soppressione del corpo, i cui resti non sono ancora stati trovati. Ora si attende che il tribunale di Reggio Emilia fissi la data dell'udienza davanti al GIP che deciderà del destino processuale dei 5 familiari della ragazza. Lo zio e i due cugini dopo la latitanza si trovano ora in carcere. Il padre e la madre della ragazza invece sono ancora latitanti in Pakistan. Dopo le ricerche, le inlaggi, le estradizioni e le riflessioni ad un anno della scomparsa, inizia il processo per trovare la verità su quanto accaduto a Saman Abbas. La data dell'udienza preliminare è fissata per il 17 maggio. Quel giorno il giudice del tribunale di Reggio Emilia, Dario De Luca, deciderà se accogliere e in quale misura le richieste della procura e se mandare e con quali accuse ha processo i genitori, lo zio e i due cugini di Saman Abbas. La fase preliminare del procedimento si chiude senza alcuna sorpresa. I 5 familiari di Saman Abbas vengono tutti rinviati a giudizio con l'accusa di sequestro, omicidio e soppressione del suo corpo. C'è silenzio da parte dei tre imputati presenti in aula. Si sono costituiti parte civile il fratello minore della ragazza, che è anche il principale teste della procura, il comune di Novellara e l'unione dei comuni della bassa Reggiana, l'associazione italiana Islamici e Penelope, associazione che si occupa delle persone scomparse. Il processo inizierà il 10 febbraio. Nel corso di una telefonata a un parente, l'8 giugno 2021, Shabbar Abbas, il padre di Saman, ha affermato chiaramente «Ho ucciso mia figlia». Gli inquirenti, procure i carabinieri di Reggio Emilia, sono sicuri sia stata assassinata perché rifiutava di sposare un cugino in patria. La conversazione è raccolta quando l'uomo era già fuggito in Pakistan e agli atti del processo a carico dei familiari della vittima. Nel corso della telefonata, Shabbar ha poi detto «Per me la dignità degli altri non è più importante della mia. Io ho lasciato mio figlio in Italia. Ho ucciso mia figlia e sono venuto. Non me ne frega nulla di nessuno». E ancora «Io sono già morto. L'ho uccisa io. L'ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l'abbiamo uccisa». Nel mentre emergono le fasi del delitto raccontate da uno degli indagati, Ijaz, e un altro detenuto che a sua volta lo ha riferito alla polizia penitenziaria. Dichiarazioni che, secondo i carabinieri di Reggio Emilia, sono credibili solo in parte. Saman è stata tenuta ferma dai cugini Akaram Ijaz e Nomanelak, Nomanelak, così da permettere allo zio Danish di strangolarla con una corda. La madre, nazi in preda a una crisi di pianto, è stata allontanata dal marito, Shabbar Abbas. Ci sarebbe poi stato il contributo di un uomo misterioso che avrebbe aiutato a finirla, infilare il corpo in un sacco, caricarlo su una bici e poi, dopo averlo fatto a pezzi, gettarlo nel po'. Akaram Ijaz è stato il primo ad essere catturato. Le sue confidenze sono state fatte in due occasioni e riassunte in annotazioni del 20 e del 29 ottobre 2021. Mentre nella prima, in cui il cugino di Saman ha riferito di non aver preso parte all'omicidio commesso dai parenti, ma di esserne venuta a conoscenza da Nomanelak, ci sarebbero elementi non veritieri e anche depistanti. Il secondo racconto è per gli investigatori più realistico, seppur con punti ritenuti fantasiosi. È possibile che l'uomo si sia corretto, anche dopo aver letto gli atti del fascicolo giudiziario, nel frattempo tradotti per aderire il più possibile agli elementi in possesso degli inquirenti, così da essere più credibile. Nel racconto annotato il 29 ottobre, Ijaz afferma che l'omicidio è stato organizzato dai genitori, in particolare dal padre, che non riusciva più a giustire la figlia. Quindi, secondo quanto raccontato da Ijaz, la sera del 30 aprile Shabbara ha chiesto alla moglie di fare una camminata con Saman nelle vicinanze della loro casa di Novellara. Lui le seguiva a poca distanza e una volta superate le serre, non è chiaro quali visto che nella zona ce ne sono diverse, le due sono state raggiunte dallo zio Danish, dallo stesso Ijaz e dall'altro cugino, Nomanelak. A quel punto gli uomini hanno bloccato mani ai piedi della ragazza e la madre ha iniziato a piangere ed è stata allontanata dal marito. Danish ha strangolato la ragazza con una corda e il padre ha chiamato un altro uomo con il volto coperto da un passamontagna, che li ha raggiunti in poco tempo. Questo figuro, probabilmente già preallertato, ha quindi preso le redini delle operazioni. Ijaz sostiene che a questo punto lui e Shabbara sono tornati indietro, mentre il personaggio misterioso Danish e Nomanelak si sono occupati di trasportare il corpo verso il fiume in sella a una bici. Finalmente sembra che anche il Pakistan si sia mosso per aiutare nel caso di Saman. Il governo del paese asiatico ha infatti emesso un ordine di cattura nazionale nei confronti dei genitori della giovane Shabbard e Nazi. Anche loro, accusati dalla procura di Reggio Emilia di concorso in sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. A confermare la notizia è la dirigente della polizia di stato Maria Falcicchia, direttrice della seconda divisione Interpol. Il Pakistan ha valutato di emettere un provvedimento di cattura nazionale in quanto le autorità del paese hanno recepito la fondatezza delle attività svolte in Italia dai carabinieri di Reggio Emilia e dall'autorità giudiziaria supportata dai servizi di cooperazione di polizia. Martedì 15 novembre 2022 il padre di Saman, Shabbard Abbas, viene arrestato in Pakistan per l'omicidio della figlia. Da un punto di vista tecnico il provvedimento eseguito dalla polizia del Punjab è un arresto internazionale provvisorio, esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dall'Italia, passato dall'Interpol e recepito dalla polizia pakistana. Significa cioè che le forze investigative di due paesi con l'Interpol a fare da tramite condividono lo stesso quadro accusatorio basato sulla contestazione di omicidio. Ma lo stesso termine tecnico del provvedimento indica appunto la provvisorietà dell'arresto perché la scelta ora spetta allo stato del Pakistan tramite un suo giudice o una sua corte. Deve essere un magistrato a decidere se le accuse mosse dall'Italia siano da ritenere valide e adeguatamente dettagliate per poter consentire un'estradizione oppure negarla. Sull'eventuale scelta di un giudice la questione si fa ancora più tecnica ma è riassumibile in modo abbastanza lineare. Solitamente l'estradizione viene concessa se il reato contestato nel paese che la chiede è riconosciuto e punito anche nel paese dell'indagato o ricercato internazionale o comunque nel paese che lo ospita. Sul caso di omicidio quindi non dovrebbero sossistere ostacoli. Il Pakistan può dire sì all'estradizione. Molto dipende però anche dalla linea difensiva del padre di Saman che di base ha due possibilità. Tentare di negare gli indizi a suo carico, porre un dubbio quindi di merito al giudice del suo paese oppure riconoscere il reato commesso ma visto alcune caratteristiche della vicenda potrebbe scegliere di mettere in luce elementi di carattere socioculturale in chiave attenuante. Ad esempio può riportare che sua figlia aveva negato un matrimonio concordato da tutta la famiglia. I matrimoni combinati sono una pratica molto diffusa in Pakistan. Esiste quindi anche se in minima parte il rischio che le cause dell'omicidio di Saman diventino un elemento di difesa per suo padre in Pakistan. Intanto Shabbar quando viene arrestato sostiene che sua moglie si trova già in Europa. Nel frattempo termina con un rinvio quella che nell'ordinamento italiano chiamiamo udienza preliminare a cui è stato sottoposto Shabbar Abbas. L'udienza che si è svolta a porte chiuse è stata rinviata al 24 novembre per permettere all'uomo e alla sua difesa di produrre documentazione e memorie. Si allungano quindi i tempi per una eventuale estradizione dell'uomo in Italia. Eventuale perché nonostante sia stata richiesta ufficialmente dall'Italia nell'estate del 2021? Non è detto che venga concessa in quanto tra il nostro paese e il Pakistan non esistono accordi bilaterali. A questo si aggiunge il fatto che Shabbar in patria è accusato di frode ai danni di un connazionale. Intanto il 19 novembre Danish, ossia lo zio di Saman, indica il luogo in cui sarebbe stata seppellita la ragazza. In passato i arabinieri avevano già cercato senza successo in quella zona. Ma ora in via Reatino nelle campagne di Novellara, dietro l'abitazione in cui viveva Saman Abbas, sul retro di un rudere sono stati trovati resti umani che potrebbero appartenere proprio alla giovane. L'ultima latitante ormai è Nazi, madre di Saman, che ha ricoperto un ruolo da protagonista nella tragedia della figlia. E se da mesi si parla soprattutto del resto della famiglia, zio Danish, i cugini e il padre, ora la persona ricercata. È proprio lei. Dalle carte si scopre che Danish ha incontrato in carcere il cugino Akaram. I due non si erano più visti dopo la fuga da Novellara. Provato dalla detenzione e ignaro di essere intercettato, Ijaz conferma all'uomo. Parlerò, giulo su Allah, parlerò, da nove mesi sono disonorato. E asserisce che se non dovesse riuscire più a sentire sua madre, si suiciderà. Danish replica dicendo, prima avevo paura della prigione in Pakistan, ma adesso che è in carcere in Italia ammette di non avere detto tutto e potrebbe ripensarci. Poi ecco che si sente un'altra frase di Ijaz, intercettata. Io la immobilizzavo per le gambe mentre Danish e l'altro cugino la soffocavano. Shabar Abbas intanto ha detto al giudice che la figlia Saman è viva. È quanto si apprende dall'udienza che si è conclusa per il padre della diciottenne. L'uomo era con l'avvocato al quale sono stati concessi sette giorni per prendere visione della documentazione arrivata dall'Italia, che ne ha chiesto l'estradizione. Shabar dunque non ammette nulla di quello che la procura reggiana gli imputa. L'omicidio della figlia, in concorso con altri quattro familiari, aggravato dal ritrovamento di resti umani in un casale di roccato dietro la casa in cui la famiglia viveva a novellara. Anzi, ribatte e rilancia con un'accusa assurda. Saman è stata rapita dai servizi sociali del territorio e ce l'hanno loro. Ancora una volta però ci si trova nel tunnel dei rinvii. La nuova udienza in Pakistan in programma per martedì 6 dicembre, che avrebbe potuto fornire novità sull'estradizione, non c'è stata. Il giudice che si occupa del caso era in congedo. La notizia dell'annullamento fa arrabbiare più di qualcuno. Barbara Iannuccelli, avvocato dell'associazione Penelope, parte civile del processo, afferma. Il Pakistan sta perdendo la grande occasione di dimostrare che ci sono pakistani buoni e pakistani cattivi che devono subire un giusto processo nel paese che li accusa. Se continua così danneggerà tutta la comunità pakistana che sarà sempre associata a uno stato che sta proteggendo degli assassini. Aggiunge poi. Non so quanto tutto questo giovi ai pakistani buoni che in Italia lavorano e vivono normalmente. Arriviamo al 10 dicembre, quando emergono i primi elementi dalle analisi sui resti della ragazza. Stando all'autopsia eseguita dal laboratorio Labanov di Milano, la causa del decesso può essere asfessia. Nessun taglio, nessuna traccia di sangue, una lesione interna però da verificare. Viene confermato che i resti sono di Samana Bass. Un'affermazione che si può fare, secondo la procura, nonostante manchi ancora la prova regina che sarà la comparazione del DNA. Perché sono stati trovati durante l'esame tanti elementi individualizzanti. La folta chioma di capelli, la cavigliera, il braccialetto portafortuna, un paio di orecchini e poi i vestiti che sono quelli ripresi dalle telecamere la sera del 30 aprile 2021, l'ultima volta che la ragazza è stata vista nei video. Il seguito di quella notte è raccontato in un'informativa girata dalla polizia penitenziaria all'arma e finito agli atti. I Jats ha confidato che dopo l'omicidio i partecipanti si sarebbero sbarazzati dei loro indumenti bruciandoli nelle stufe a legna presso la casa degli Abbas o in quella di Danish. Questo per far sì, secondo gli investigatori, che le forze dell'ordine non trovassero traccia di sangue della giovane Saman. Nelle stesse carte si racconta che Danish e i Jats avrebbero detto di dover completare la loro missione uccidendo anche il fidanzato della diciottenne, il coraggioso ragazzo pakistano che ora assistito dall'avvocato Claudio Falleti vive sotto protezione e che nei giorni successivi al delitto segnalò ai carabinieri preoccupatissimo la sparizione della giovane. Sembra che intercettati più volte assieme in carcere Danish e i Jats hanno peraltro più volte manifestato la volontà di parlare con un giudice. Shabbar arrestato dopo un anno e mezzo di latitanza è comparso nuovamente davanti alla corte di Islamabad ma il suo difensore non era in aula e così tutto nuovamente slittato. Il procuratore capo di reggio Calogero Paci è quotidianamente in contatto con le autorità locali. Se arriva il 10 gennaio giorno nel quale a proposito di tempistiche manca un mese all'inizio del processo nel quale l'uomo figura tra i cinque imputati diventa sempre più difficile pensare che Shabbar possa essere a reggio Emilia per l'inizio del processo. Barbara Iannuccelli l'avvocato dell'associazione Penelope ha commentato Se rimane senza parole questa mancanza di parole dovrebbe essere quella di tutta la comunità pakistana che dovrebbe insorgere. L'Italia chiede di sottoporre lui e la moglie, la madre di Saman ancora latitante, ad un processo in cui possano difendersi ed eventualmente essere assolti. Il comportamento dello stato pakistano ricade sui giovani di quel paese che vivono in tutto il mondo. Pochi giorni prima, ossia il 4 gennaio, è stata accertata con sicurezza l'identità del corpo fatto ritrovare dal cugino della giovane, sepolto in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dall'abitazione della famiglia. L'avvocato Iannuccelli spiega È stata identificata un'anomalia dentaria grazie a foto e video. L'osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post mortem. La frattura dell'osso nella parte anteriore del collo avvalorerebbe l'ipotesi di strangolamento. Il 10 gennaio arriva notizia di un ulteriore rinvio e tempi che si allungano per l'estradizione di Shabbar Abbas, se mai avverrà. Nulla di fatto quindi davanti alla corte federale, il 46enne accusato di aver preso parte all'omicidio della figlia, resta nel carcere della città dove è stato bloccato. Secondo l'ordinamento del paese asiatico scadrebbero in questi giorni termini per definire l'iter del suo ritorno in Italia, che per legge potrebbe durare al massimo due mesi. Il rinvio era una possibilità ampiamente preventivata dall'avvocato Iannuccelli, che ha commentato di nuovo. Non penso vedremo mai in Italia il genitore di Saman. Salvo clamorosi dietro fronte, di fatto quasi impossibili, l'ennesimo rinvio comporta l'assenza di Shabbar il prossimo 10 febbraio, quando in Italia inizierà il processo in cui dovrà rispondere dei reati di omicidio premeditato, sequestro di persona e soppressione di cadavere in concorso con la moglie nazi ancora ricercata. Va comunque sottolineato come in Pakistan, paese dove esistono enormi conflitti sociali, l'estradizione a termini molto larghi e potrebbero esserci addirittura ulteriori proroghe alle scadenze. Il tutto permetterebbe quindi di sperare ancora in un ritorno in Italia del presunto omicida. Con questo ennesimo rinvio arriva anche la rabbia che è pronta ad esplodere. Sempre l'avvocato Iannuccelli ha affermato. Una farsa. E noi qui a chiedere giustizia. Decisi di occuparmi della vicenda di Saman per capire quanto profondo potesse essere il male. L'ho capito quando ho visto riaffiorare da due metri sotto terra il corpo di questa povera ragazza. E ancora. Il fatto che la giustizia per Saman rimanga soltanto sulla carta fa tremare i polsi. A questo punto dobbiamo spingere al massimo per salvare tutte le altre Saman che non conosciamo. Si allarga intanto il collegio peritale, ovvero il gruppo di consulenti che entro il 22 febbraio dovrà depositare una relazione completa sui risultati l'autopsia sul corpo di Saman. Manca ancora il test del DNA ma dall'impronta dentaria è emersa l'ufficialità che si tratti di lei. Su richiesta dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che è alla guida della perizia, il 16 gennaio la Corte d'Assise di Reggio Emilia ha nominato altri due esperti. Un secondo anatomopatologo, il professor Biagio Leone dell'Università di Milano Bicocca e il genetista forense Roberto Giuffrida del Gabinetto di Polizia Scientifica di Milano. La procura di Reggio Emilia guidata da Callogero Paci ha aperto un'inchiesta bis per cercare eventuali complici che possono aver aiutato gli imputati ad occultare il corpo della ragazza ritrovato il 18 novembre interrato in una buca profonda a più di un metro, a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, data da 30 aprile 2021. Per ora non ci sono novità su questo caso, ma vi terrò aggiornati. Shabbar verrà finalmente estradato? Come andrà il processo? Sono tutte domande a cui darò risposta appena ne sapremo qualcosa in più. Intanto, attendo l'inizio del processo e spero che sia fatta giustizia per Saman. Detto questo, ho finito di parlare in questo video molto lungo, quindi vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate del caso, immagino che lo conosciate tutti quanti, perché insomma è un caso di cronaca recente che non ha mai smesso di far parlare, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo caso, come al solito, come vi dico sempre, ci si becca qua sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!